freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance bene direi che possiamo invitare sul palco fabrizio allora buongiorno a tutti e mi fa specie insomma questa cosa che la prima volta che parla freelance camp perché sono dall'altra parte della telecamera sì sono anni che vi guardo allora di che vi parlo oggi ma in realtà questo fatto che non ho le slide un po' mi mette in difficoltà perché non sono assolutamente abituato a parlare a braccio in realtà parlo poco poi insomma da come sapete tutti da una quindicina di mesi a questa parte occasioni per parlare davanti alla gente non è che ce ne siamo state molte insomma diciamo pure che non ce ne sono state affatto e quindi bisogna un po' ripartire però è bello vedervi in 3d nel senso insomma che esistete siete tangibili la realtà aumentata diceva Gianluca allora a proposito di realtà aumentata questo è uno speech di servizio nel senso che vorrei parlarvi di alcune opportunità di nuove professioni per freelance che secondo me si stanno aprendo nell'ambito degli eventi online ci arriviamo però per gradi vi racconto un attimo come siamo arrivati noi come società a questa cosa degli eventi online per chi non lo sa io una società che si occupa di produzione video e abbiamo sempre avuto due filoni uno è quello della produzione video diciamo tradizionale quindi marketing per facebook instagram eccetera e un'altra è quella degli eventi in streaming quindi dirette è evidente che quando a marzo dell'anno scorso si è creata la catastrofe che sappiamo a noi è successo che all'improvviso tutto quello che avevamo programmato era stato bloccato sospeso annullato eccetera quindi sia qualunque tipo di produzione che prevedeva il fatto di essere fisicamente in qualche posto a riprendere sia le dirette di eventi fisici dove bisognava appunto essere lì con persone e fare queste riprese quindi nel giro insomma di pochi giorni mi sono arrivate telefonate mail eccetera di annullamenti vari al punto in cui noi ci siamo trovati nella condizione di dire e mo che ci inventiamo insomma è comunque una società piccolina siamo in cinque adesso in sette in realtà però è una società che costa comunque perché insomma andarla avanti non è facile tutti i mesi c'è un costo e ci siamo detti vabbè chiudiamo che possiamo fare letteralmente non sapevamo cosa inventarci poi però mi ha telefonato qualcuno timidamente mi ha cominciato a dire ma ma essi potrebbero trovare delle soluzioni per fare qualcosa online invece che farla fisicamente attenzione e lì mi si è accesa la lampadina e mi son detto beh streaming lo facciamo già non potrà mai essere poi così diverso parliamo di un periodo in cui appena si cominciava a parlare di zoom nel senso era comunque un po inizio per tutti no poi stai subissati da webinar cose eccetera però lì era veramente l'inizio e ci siamo detti vabbè proviamo a inventarci qualcosa il problema fondamentalmente era come organizzare la produzione di questa roba perché avevamo già capito stavamo già capendo che ci doveva essere un modo per evitare di fare delle semplici videoconferenze no perché un evento online non può essere accendi le webcam di tutti ti metti lì le 50 finestrelle no perché non funziona non funzionava non si è capito subito che non avrebbe funzionato e allora abbiamo cominciato un po a organizzare dei processi di lavoro che prevedevano il fatto ed è qui dove vorrei poi arrivare di creare anche delle figure professionali o comunque dell'attività che poi secondo me nel tempo diventeranno anche delle figure professionali e probabilmente appunto potrebbero diventare anche interessanti per dei per dei freelance perché allora l'evento fisico com'è che funziona abbiamo assistito tutti a eventi fisici no succede che c'è ci sono gli operatori c'è chi si occupa della regia c'è chi si occupa dell'audio c'è chi si occupa delle slide che vengono proiettate insomma ci sono una serie di figure questo stesso modello però trasportato negli eventi online non è semplicissimo ovviamente intanto perché non si è tutti nello stesso posto quindi questo vuol dire qualche cosa l'alterativa qual è che uno solo fa tutto no perché non funziona non ce la fai se vuoi fare una cosa fatta bene che prevede anche un'organizzazione un processo eccetera e allora abbiamo cominciato a codificare delle figure delle attività e la nostra metodologia essendo comunque tutti lockdown ed essendo comunque tutti separati perché io era a Roma a casa mia i miei due soci erano a Vallo della Lucania dove dove vivono e poi abbiamo preso una collaboratrice di Bologna e quindi eravamo tutti sparsi che ti inventi la prima cosa abbiamo pensato è stata oltre alla situazione dove siamo collegati che può essere uno zoom può essere uno streamer può essere altro creiamoci una conference call in audio a parte dove ricreiamo la stanza della regia separatamente quindi lo scenario tipico del mio mese di aprile è stato che io avevo due cuffie con una sentivo i miei colleghi e con l'altra sentivo la regia di quello che succedeva in sala e funziona diventi un po' scemo però funziona funziona abbastanza bene e in questo modo tu ricostruisci la sala della regia e riesci a lavorare insieme agli altri anche se non stai fisicamente nel posto dove succede l'evento il che è necessario perché quante volte è capitato di sentir parlare di cose di servizio perché magari c'erano microfoni aperti delle persone che erano collegate dentro lo zoom magari mentre c'erano speech o altro e quindi noi da allora diciamo abbiamo codificato questa cosa e funziona perfettamente non entro nel merito delle piattaforme utilizzate perché noi poi noi abbiamo fondamentalmente creato tre linee una che lavora sui webinar di zoom non meeting zoom webinar che funziona molto meglio e soprattutto consente la possibilità di gestire anche diverse attività creando ruoli differenti fra chi gestisce chi è speaker e chi attendì quindi zoom diciamo è la prima linea la seconda è stream yard che è un software di regia di fatto non è lo stesso posto dove si fruisce l'evento a differenza di zoom dove invece le persone che gestiscono l'evento sono contemporaneamente insieme a quelle che lo fruiscono e poi noi abbiamo la nostra regia che è una parete di 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 hardware con cui facciamo eventi con la nostra piattaforma insomma una roba che non c'entra niente diciamo con le piattaforme tradizionali però al di là del della piattaforma che viene utilizzata noi abbiamo codificato fondamentalmente quattro figure professionali quattro attività diciamo così che sono leggermente diverse da come normalmente un team di di regia di un evento si organizza e soprattutto ed è qui dove volevo arrivare riteniamo che ci sia un tasso anche di individualità nella singola professione molto diversa da quella che normalmente ha un team tecnico che gestisce un evento un pochino più massificato un pochino più tradizionale dove tipicamente c'è il regista e poi c'è una sequela di persone che fanno poco no nel senso non mettono molto di sé non mettono molto di individuale nella propria attività questo come è il primo è il come dire la prima cosa che vedo cambiare in prospettiva no cioè vedo sempre più delle figure autonome sia in virtù del fatto che si è molto più sparsi no e non si è non si sarà non si ci si troverà tutti sempre nello stesso posto durante anche gli eventi fisici sia per questo sia perché cambia proprio il tipo di di attività e non è più un semplice una semplice attività da operaio manuale una commodity in cui apri il powerpoint e consegni lo slider il cambia slide allo speaker e ti preoccupi che il computer non vada in crash ma c'è un'attività maggiore c'è un momento in cui diventa necessario curare in maniera differente anche il tipo di attività che si fa cerco di entrare nel merito perché altrimenti non si capisce niente le figure sono quattro e sono appunto perché stavo parlando di slide noi abbiamo chiamato il content manager content manager è una figura che appunto eredita l'attività di quello che negli eventi viene chiamato il power pointerista cioè quello che appunto apre il powerpoint sul computer consegna il cambia slide e verifica che il computer non vada in crash carica la presentazione magari sul computer tipicamente viene portata in chiavetta all'ultimo secondo insomma tipica situazione d'evento fisico in realtà il content manager che parte da lì è una figura un po' diversa perché si preoccupa intanto di anche di confezionarli contenuti cioè noi in moltissime occasioni non so perché è successa questa cosa ma una ragione ci deve essere probabilmente consiste nel fatto che essendo a distanza ed essendo online si ha magari maggior bisogno di essere curati probabilmente no e quindi c'è successo che gli speaker magari citavano la presentazione e quindi c'era il problema il formato l'impaginazione aggiustarla sistemarla quindi è un ruolo se vogliamo anche un po' consulenziale diventa non è semplicemente carico la presentazione ma è verifico che quello che tu mi stai dando funziona bene no sulle piattaforme che poi su cui poi la gestiremo questo è il primo punto il secondo punto è che non so se avete presente il tipo che gira i fogli del pianista no del pentagram ecco qui la situazione è un po' simile nel senso in molti casi sempre per le medesime ragioni per cui magari ci si trova in difficoltà a fare lo screen sharing da soli eccetera eccetera il nostro content manager aveva il ruolo anche di condividere il proprio schermo con la presentazione dello speaker cioè eravamo noi che la gestivamo centralmente nel caso di zoom si può anche dare il controllo remoto allo speaker che sta da qualche altra parte cioè io apro la mia presentazione sul mio computer e poi assegno il controllo a Angelo che sta in un'altra città e lui può gestire le slide che sono sul mio computer questo è un esempio però per esempio questo nel caso di streamer non è possibile nel caso di altre applicazioni non è possibile quindi noi ci troviamo nel mandare avanti le slide per conto dello speaker che in qualche caso funzionava bene perché al di là della necessità di controllo l'idea che ci sia qualcuno che si occupa del tuo contenuto abbiamo visto che aiuta nel senso semplifica molto la vita probabilmente lo speaker si concentra meglio chiaramente trovavamo dei meccanismi no? nel senso in qualche caso lo speaker ci chiamava il cambio slide in qualche altro caso ci eravamo organizzati con un gesto che si vedeva fare quindi magari sposto la mano io capisco che devo cambiare la slide insomma si trova un codice per cui si riesce ad andare avanti in questo modo quindi questa figura del content manager è una figura che dal punto di vista consulenziale si occupa di curare il contenuto impaginarlo, gestirlo, verificare che funzioni con la piattaforma indicata eccetera eccetera poi durante l'evento provarlo, testarlo eccetera eccetera durante l'evento condividerlo, farlo camminare, farlo funzionare eccetera questo vale sia per le slide del singolo speaker sia anche magari per eventuali contributi video durante un evento fisico succede che a un certo punto sullo schermo grande deve partire un video per esempio questo è quello che fa il content manager in un evento online si precarica i video a seconda del tipo di piattaforma nel caso di zoom per esempio noi i video li abbiamo sempre comunque messi all'interno delle slide perché funziona meglio nel caso di streamyard si caricano video sulla piattaforma e si alterna le slide con schermo condiviso e i video caricati quindi il content manager è una figura che si occupa della gestione dei contenuti si occupa anche dell'erogazione di questi contenuti durante l'evento secondo me è una figura che acquisterà importanza nel tempo è vero che torneremo a fare eventi fisici ma gli eventi non saranno più come prima questo è impossibile intanto perché ci siamo resi conto del fatto che è più comodo avere gli speaker in giro per il mondo piuttosto che portarli tutti nella stessa location costa caro, ci sono gli aerei, ci sono gli spostamenti quello che non può, collegarsi due ore per fare un evento non è come perdere due giorni per arrivare magari dall'altra parte della costa e essere fisicamente presenti quindi vale sia per gli speaker ma anche per il pubblico ricordiamoci che fino a prima della pandemia lo streaming era una roba attaccata lì c'è l'evento fisico, la cosa importante è che io vedo le persone davanti a me poi casomai facciamo anche la diretta che è una roba che tu butti lì poi se qualcuno la vede bene, se qualcuno la vede non importa un extra adesso invece diventa centrale diventa centrale al punto in cui finalmente chi organizza l'evento non potrà non tener conto del fatto che c'è qualcuno che sta seguendo anche a casa quindi quantomeno guardi la telecamera e ti rendi conto che c'è qualcuno che sta anche di là oppure si creeranno delle situazioni in cui chi è a casa magari avrà accesso ad altre cose che le persone in sala fisicamente non possono avere cito l'esempio del primo Cisco Live ibrido del 2010 Cisco, l'azienda di router, la conoscete tutti loro sono stati i primi a fare un evento ibrido in cui tutte le persone che erano a casa avevano la possibilità di chattare con i manager della Cisco durante l'evento cosa che le persone fisicamente presenti non potevano fare quindi si dava questa cosa in più non puoi esserci ma ti regalo questa possibilità in più ecco, situazioni di questo genere secondo me se ne vedranno moltissime questo parentesi per dire che poiché anche a ritorno degli eventi fisici si continuerà a lavorare molto online queste figure di cui vi sto parlando assumeranno un'importanza determinante mi viene addirittura da pensare che non è detto che durante un evento fisico le slide vengano manovrate e i contenuti vengano manovrati fisicamente lì perché la regia può essere completamente esatto, completamente esterna brava, remota, non mi veniva la parola torniamo alle figure l'altra figura importante è la figura dell'interaction manager noi l'abbiamo codificata in questo modo sempre nel tentativo di dividere le attività suddividere le attività l'interaction manager è la figura che si preoccupa di tutto ciò che ha a che fare con le interazioni con le persone durante l'evento per esempio i sondaggi per esempio le Q&A sembra una banalità ma gestire il flusso delle domande delle persone che scrivono da loro da casa o comunque da remoto gestire i sondaggi farli partire leggere i risultati eccetera eccetera quando hai a che fare con un pubblico di mille persone collegate su zoom non è proprio una banalità e non è una cosa che tu arrivi lì e dici vabbè lo fai te, lo faccio io no, va codificata è fondamentale e questa è una figura interessante perché le interazioni aumenteranno nel corso del tempo noi non abbiamo idea di cosa succederà un anno fa non avevamo idea di quello che sarebbe successo a livello di piattaforme per eventi online non esisteva Streamyard non esisteva Open lo stesso zoom praticamente non se ne parlava era un piccolo programma diciamo di videoconferenza simile a Skype e così via come tante altre piattaforme di webinar che stanno nascendo quindi per estensione da qui a tra un anno o tra due anni vedremo tantissime altre cose che non possiamo neanche immaginare adesso lì secondo me ci sono gli spazi interessanti e l'interaction manager è quella figura che si occuperà di tutte le interazioni quelle che conosciamo ora i poll le domande eccetera e quelle che non conosciamo ancora no? tutte le attività di collaboratività remota che si potranno creare all'interno di queste piattaforme quindi una persona che sovrintende tutta l'interazione di un evento sostanzialmente faccio una parentesi questa cosa io la sto dicendo anche perché a me mi servono queste figure nel senso che io non so dove trovarle io ho il problema che figure di questo tipo non esistono mi è capitato di avere a che fare con dei service molti dei quali purtroppo hanno chiuso perché non hanno avuto la capacità di reinventarsi nell'online e molti dei fuoriusciti magari sono trovati letteralmente in mezzo a una strada non avevano queste competenze e non avevano neanche la capacità di reinventarsi neanche individualmente sia per la mancanza di spirito di rinnovamento diciamo così ma anche per come il lavoro era concepito immaginate Ford e Toyota cioè il grande service dove l'attività fordista è quella della catena di montaggio per cui uno gira il bullone quell'altro attacca la ruota ma non hai la visione insieme ecco nel futuro sempre più chi si occupa di eventi online dovrà avere la visione insieme dovrà essere molto individuo questo era quello che stavo cercando di dire male prima quindi tutte queste cose le sto dicendo perché a me queste figure servono e spero mi serviranno sempre di più poi veramente nessuna idea di quello che succederà l'anno prossimo anzi nessuna idea di quello che succederà a settembre veramente quindi però insomma sappiamo che queste cose qui cresceranno e quindi quantomeno a livello di proposizione vorremmo averle per cui content manager e interaction manager queste sono le due figure più tecniche cioè quelle che effettivamente poi hanno a che fare con diciamo i computer dove sta il tema secondo me il tema è che ci troviamo in quella situazione un po' di frontiera fra la competenza tecnica dello strumento e la capacità di concepire un sistema più ampio quindi l'evento in generale per cui non è una figura totalmente tecnica ma non è neanche una figura ovviamente totalmente chiamiamola umanistica insomma di progetto è una via di mezzo ed è secondo me la grande capacità di saper unire vari strumenti saperli utilizzare anche in maniera originale perché spesso e volentieri il problema è che penso al content manager non devi soltanto condividere le slide devi verificare che funzionino rispetto per esempio ai background scelti rispetto a non so banalmente uso di font l'aspect ratio che deve essere 16 noni piuttosto che 4 terzi cioè devi avere anche la capacità una capacità progettuale che non è semplicemente tecnica e non basta avere soltanto una capacità progettuale perché devi sapere letteralmente puoi avere il problema che un video caricato su una slide non funziona e quindi lo devi scaricare dalla slide lo devi riconvertire in un formato diverso rimetterlo di nuovo nella slide perché in quel modo a quel punto cammina e funziona noi ci siamo trovati in circostanze assurde veramente mi ricordo un caso in cui c'erano arrivate delle slide in cui dei file mp3 erano stati caricati come audio dentro alle slide abbiamo fatto molti eventi per Spotify business to business e questi audio avevano una serie di virgole e di spazi per cui il file così come era non funzionava in nessun modo ore a cercare di capire quale fosse il problema poi quando ci siamo resi conto che era insolitamente lungo il nome del file abbiamo detto non sarà che se lo chiamiamo a.mp3 forse funziona meglio e infatti funziona meglio questo tipo di cleverness è della persona ovviamente è della persona cioè la capacità di trovare soluzioni a problemi che prima non esistevano e che probabilmente sono dati lo spippolatore esattamente un po' spippolatore un po' progettista a fianco di queste due figure molto tecniche ce ne sono due spippol manager ce ne sono due una ancora una via di mezzo un'altra di tecnico diciamo a poco però è molto importante che conosca bene la situazione questa ultima figura è lo showrunner lo showrunner durante gli eventi fisici normalmente è quello che segue la scaletta e chiama le cue cioè le chiamate di ogni momento di quello che deve succedere questa figura è cruciale negli eventi online perché appunto tutti distanti tutti remoti ci vuole qualcuno che tenga un attimo la palla e non è il regista che noi chiamiamo producer che è l'altra figura invece di cui volevo parlare lo showrunner è quello che ha la scaletta in mano e chiama al content manager all'interaction manager al producer tutto quello che devono fare manda la slide manda il tappo fai partire il poll e ognuno sa che è stato chiamato a fare quella cosa per cui è stato chiamato quindi lo showrunner è una figura importantissima perché la prima cosa che deve fare è rendersi conto della coerenza della scaletta prima dell'evento cioè va progettata questa scaletta e non è semplicissimo perché 80% degli eventi online che abbiamo fatto diciamo 70% perché poi quelli più bravi non c'era la scaletta perché l'idea è vabbè è un evento online noi ci mettiamo lì e parliamo certo che ci vuole apri la finestra chiudi la finestra il microfono è acceso spenti un casino non finisce più quindi no è importante per esempio noi ci siamo inventati il countdown all'inizio dell'evento 5 minuti 10 minuti prima di far partire l'evento tutti i zitti tutti i zitti tutte le camere spente tutti i microfoni spenti countdown che magari è una slide una slide con un video fatto partire un ottimo modo per far partire la diretta evitando la partenza un po' così diciamo mi vedete mi sentite ci sono non ci sono ci siete chi c'è chi non c'è ci sei tu ci sono io molto spesso gli eventi cominciano così invece il countdown è un reset tutti i zitti tutti i fermi 5 minuti alla scaletta è il countdown il primo che deve parlare sa che è il primo che deve parlare in molti casi gli facciamo tenere il microfono aperto perché ci pensiamo noi ad accendere perché altrimenti non lo accenderà il primo che parla e questo è successo moltissime volte quindi per dire insomma la scaletta è fondamentale ci sono un sacco di punti di passaggio importanti ad esempio finisce di parlare uno speaker devi far partire il secondo deck di slide per il secondo speaker devi immaginare quello che succede fra uno e l'altro quindi devi chiudere la condivisione dello schermo far partire eventualmente di nuovo la condivisione dello schermo o con un altro deck di slide per evitare che si veda l'apertura e la chiusura in molti casi abbiamo fatto un unico deck per tutti ma insomma è importante che ci si renda conto che ci sono un sacco di punti di passaggio nodali e cruciali che vanno progettati la microprogettazione anche in questi casi quindi lo showrunner è la figura che si occupa di immaginare tutta questa roba e poi di farla funzionare durante l'evento quindi fare letteralmente le chiamate noi con la regia a parte questa persona chiama gli altri e gli dice quello che devono fare l'ultima figura è quella del producer che è diciamo se vogliamo quella più importante nel senso che è quella che effettivamente accende e spegne le camere e i microfoni delle persone che devono parlare chiaramente è una figura che si comporta in maniera diversa a seconda del tipo di piattaforma però è una figura che deve intanto conoscere tutte le piattaforme o almeno tutte quelle che vengono usate per esempio Zoom tu puoi chiedere di accendere la camera e non è detto che la persona che è chiamata ad accendere la camera poi lo faccia quindi devi gestirti questa cosa sapendo che devi farlo un pochino prima perché se non accetta poi dopo ti trovi col buco e quindi devi gestire anche il buco e così via quindi ricapitolando le figure sono fondamentalmente quattro uno è lo showrunner che gestisce la scaletta l'altro è il producer che si occupa di gestire microfoni e telecamere degli speaker eventualmente del pubblico che volesse partecipare a parlare questo non è possibile con Streamyard perché il pubblico segue l'evento da un'altra parte non è impossibile nel senso che se tu fai una diretta su Streamyard verso Facebook una persona che sta su Facebook vorrebbe partecipare e in teoria gli si può mandare il link di Streamyard per entrare in regia e partecipare è un'altra cosa anche questa che va gestita ed è un'attività che per esempio gestisce l'interaction manager che si preoccupa magari di invitare qualcuno e di farlo partecipare su Zoom è un po' più semplice perché su Zoom c'è l'Attendee che non ha uso di camera forse il microfono sì ma comunque non ha uso di camera può essere promosso come anche in GoToWebinar come in tutte diciamo le app con cui fare webinar può essere promosso e questa è un'attività che ovviamente fa il producer nel caso insomma del modello che noi abbiamo implementato quindi al di là delle figure sono 4 potrebbero essere 10 cambieranno il tempo succederanno un sacco di cose il punto è secondo me esiste una grandissima opportunità per i freelance che hanno un profilo mezzo tecnico e mezzo progettuale diciamo così perché i service tradizionali non lavoreranno più come prima oppure è possibile che si affianchino quindi magari ci sarà il service tradizionale che lavora in sala e contemporaneamente ci sarà un service online che lavora sulla parte online però secondo me è un mondo che crescerà molto non ci sono figure codificate c'è bisogno di gente che faccia queste cose non è un lavoro commodity perché è un lavoro dove serve molta capacità di saper progettare esserci conoscere studiare imparare le piattaforme eccetera secondo me è uno scenario sul quale vale la pena di fare qualche riflessione di nuove forme di freelancing diciamo così per saperne di più visita il sito www.freelancecamp.net e scriviti alla newsletter riceverai subito 6 lezioni per diventare freelance migliori una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del freelance camp grazie a tutti